Eccolo! Ci hanno preso 40 euro Per paura siamo Ma io ci sono Sai che sta arrivando? Chi è che c'è? Tutto a posto? Tutto a posto? Tu che dici Mazzetti? Tutto bene? Non so che questo ragazzo riesce a arrivare a domani la partenza No, lui lo vedo veramente Un po' sovraccarico, sì Non vi deluderò ragazzi Eccola qua Si sta generando un sovraccarico di tensione qua Le attese saranno rispettate in pieno Infatti già se lo tocchi senti una certa energia Energia positiva Ecco il top Adornetto sensazioni Qui siamo al top Siamo in un'intervista ufficiale Per il Gio Ponti Come questa mezza maratona L'ha già fatta naturalmente No, non ci posso credere Ecco il coach Scusa Ubi Maier Spostati perché ci abbiamo Vai arrivati Di qua, di qua Diego Ecco il coach Bravo Diego Intanto complimenti per questi bellissimi manicotti Mi piacciono Questi sono manicotti Poi ce lo voglio pure io Da campioni del mondo Sono pacifisti questi Sono della Gallo Le piacciono questi Coach dici il programma di oggi Stiamo facendo l'intervista Aspettiamo Gigia Ecco la Gigia Questi sono vecchissimi Già di intervista stiamo Dai dai Programma di oggi L'allenamento di oggi L'allenamento di oggi Ti prendi tu Li voglio pure io questi Del coach Sì Coach ce li voglio Andiamo in pista Allora c'è una pista qui a 12 km Faremo delle ripeture Benissimo Andiamo al Pavorosi Non è da te però Eh dai Non è da te Nooo